C'è un intervento sulla Family Card in alternativa rispetto a un'azione di propaganda della Lega che propone 400 mila euro in due anni per regalare ai nuovi nati la bandiera Veneta. Mi sembra che per recuperare la natalità, che è il grosso problema drammatico della regione Veneto, visto che il 25% negli ultimi dieci anni ha diminuito la natalità del Veneto, per recuperare la natalità la gente ha bisogno di erogare servizi e quindi la Family Card va proprio in questa direzione. I comuni attivano la Family Card che consente a chi è in situazione di prenatalità o di natalità di godere di erogazione di servizi a un costo ridotto o altri contributi appunto per aiutare la natalità. Questo è il significato, ma va in contrapposizione anche a un'azione di propaganda. Consegnare la bandiera il 25 marzo del 2020 vuol dire essere in piena campagna elettorale e quindi utilizzare i fondi pubblici per fare campagna elettorale per la Lega. Mi sembra veramente improprio questo. La Family ha bisogno di erogazione di servizi, non di simboli, non di propaganda elettorale, ma di qualcosa di concreto per recuperare la natalità. La Family Card La Family Card La Family Card La Family Card